Gentili telespettatori, buona giornata. Il PD è contro il presidenzialismo, mostruosità, una roba folle, dice il segretario dei Demletta, una cosa folle, un attacco alla Costituzione, alla libertà. Giorgia Meloni e il centrodestra sono pericolosi per la democrazia italiana, europea. Noi saremo contro il presidenzialismo sempre e comunque, ma loro vogliono cacciare Mattarella, lo ha detto Berlusconi. A parte Berlusconi, che insomma dovrebbe prima di parlare pensarci su un po', a parte Berlusconi e le sue esternazioni, vi racconto del PD, il presidenzialismo, e Mattarella. Alla fine di questo video probabilmente avrete una visione diversa. Allora, diciamo che è molto corta la memoria della sinistra, una memoria corta volutamente, diciamo, elettoralmente parlando. Allora, Letta è il difensore della Costituzione di Mattarella, della democrazia, contro queste orde barbariche nere che stanno arrivando, questa marea oscura che cavalca nella notte, dove davanti c'è Meloni su un cavallo nero, tutta vestita di nero, col cappello nero che cavalca, gridando, secondo lui grida, come in Spagna. Dice, stanno arrivando, Letta, gli incubi di notte, oddio, stanno arrivando, oh mamma, la democrazia. Allora, Letta sogna che telefona alla Nato, aiutateci, ma la Nato non risponde nessuno, dice, l'utente potrebbe aver cambiato numero. Allora telefona a Biden, aiutaci tu, ma quando lui telefona a Biden sente, balliamo, è tanto che non lo facciamo. Dice, ma sono gli incubi di Letta, mentre la cavallerizza vestita di nero cavalca verso l'Italia, lui telefona e gli risponde, balliamo. Ecco, in questi suoi incubi si scopre che il paladino di Mattarella e l'uomo contro il presidenzialismo, che il presidenzialismo, cavallo di battaglia del centrodestra, rilanciato da Meloni, peccato che era stato proprio il PD nell'ultima legislatura, nel 2018, prima della legge di proposta costituzionale presentata proprio da Fratelli d'Italia con Meloni, aveva presentato due proposte per la riforma in senso presidenziale della Repubblica e per le elezioni dirette del capo dello Stato. E Matteo Renzi non c'entra nulla. Il PD era stato già de-renzizzato. Quindi quando Letta dice che era Renzi che voleva il presidenzialismo, in realtà non è vero. Balliamo? Non è vero perché quando il PD fa la proposta per il presidenzialismo nel 2018 non c'era già nel PD Renzi. E allora come? Il difensore di Mattarella contro il presidenzialismo proprio il suo partito qualche anno fa aveva proposto con due proposte di legge per cambiare il capo dello Stato, le sue elezioni, le sue caratteristiche. Così è abbastanza curioso pensare che Letta dice che prima hanno cacciato Draghi, ora vogliono cacciare Mattarella. Pensate un po'. Vogliono mandare in pensione il presidente quando il presidente era proprio il PD nel 2018 che non voleva più la stessa elezione per il presidente della Repubblica. Ma Letta dice la questione chiave è il presidenzialismo, il disegno della destra è con una maggioranza larga, possono cambiare la Costituzione, arrivare al presidenzialismo e così facendo fanno un danno al Paese. Stravolgere la Costituzione vorrebbe dire sostanzialmente crearsi un alibi, datemi i pieni poteri e io risolvo tutto. In realtà il PD, la sinistra, ha cambiato 28 volte la Costituzione. Delle 28 modifiche alla Costituzione le ha fatte la sinistra. 28 modifiche alla Costituzione. ha anche chiesto con due leggi il presidenzialismo nel 2018. Quindi oggi Letta dice contro lo schieramento di centrodestra, dice e va contro delle cose che il PD o la sinistra qualche anno prima aveva fatto e pensato. il Blocco Navale l'ha fatto Romano Prodi nel 1997 con l'Albania. Blocco Navale. Poi il Blocco Navale l'ha proposto il PD con Gentiloni in Europa e l'hanno pure approvato. Ha detto fate il Blocco Navale, lo dice Gentiloni. Quello che cantava Bella Ciao in Europa, ve lo ricordate? Gentiloni, sia Gentile. Lei ci ha fatto prendere quattro pappine, sia Gentile. Ecco, mentre Gentile e Gentiloni aveva proposto il Blocco Navale e tutti applaudivano, il PD proponeva il presidenzialismo e tutti applaudivano, il PD e la sinistra hanno cambiato ventotto volte la Costituzione e nessuno parlava di attentato alla democrazia. E allora di che caspita stiamo parlando? Caro elettore del PD, ma ti rendi conto? Ci sono sul canale tanti elettori del PD. Per simpatia, per sentire un'altra campana, no? Sentiamo un'altra campana che ci dice questa campana. Questa campana vi dice che la situazione è grottesca e ridicola. Cioè, il PD accusa il centrodestra di quello che lui stava facendo. Capite che è assurdo. Non hanno un programma nel PD e accusano quelli del centrodestra di fare follie, ma quelle follie sono le cose che voleva il PD qualche tempo fa. Neanche troppo e là. Capite che c'è profondamente qualcosa che non va in questa sinistra, criticata da tutti, da ex, da persone che ci stanno, Cacciari, Bonaccini, Calenda, Renzi, Santoro, Formigli, ieri vi racconterò di Formigli, tutti che dicono ma questa sinistra, ma che cos'è sta roba? Ma che cos'è sta roba? Sì, proprio la parola roba. Che cos'è sta roba? roba nel senso che è indefinibile quindi la chiamiamo roba, no? Come dice, senti coso, no guarda che io ho un nome, no coso, com'è che ti chiami coso? Coso. Dici, cos'è sta cosa? Cos'è sta roba? Si può definire un partito una roba del genere, una cosa del genere. Arrivederci a tutti e grazie.